Il giudice per le indagini preliminari Gianandrea Bussi ha rinviato a giudizio il Piacentino querelato dalla ex moglie per il contenuto dell'intervista rilasciata dall'uomo alla trasmissione televisiva I Fatti Vostri di Rai 2. Stessa decisione anche per il conduttore Giancarlo Magalli e per Massimo Liofreddi, ex direttore di Rai 2, oltre che per Michele Guardì, Giovanna Flora e Maria Rosa Zamponi, autori del programma. Al centro del caso le accuse che il Piacentino aveva rivolto alla ex moglie in merito ai comportamenti della figlia, contesa nell'ambito della travagliata separazione della coppia. L'intervistato aveva sostenuto che la donna gli consegnò psicofarmaci per far dormire la bimba e che mentre si trovava con lui la piccola aveva mimato il gesto dell'assunzione di cocaina, oltre ad aver notato dei lividi sul volto della figlia. Il tutto per chiedere che la bimba fosse affidata a lui. L'ex moglie lo aveva quindi querelato per diffamazione e per violazione della legge che protegge i minori in trasmissioni televisive. Il pubblico ministero Antonio Colonna aveva chiesto il rinviaggiudizio di sei persone, oggi disposto dal GIP. La prima udienza si terrà il 23 giugno.